Una battuta finale... Davanti a un teatrino, ormai è da dicembre che stiamo dicendo questa legge elettorale. La legge elettorale si fa in un mese, siamo e dobbiamo essere chiari, ci sono dei partiti politici che non vogliono andare al voto ora e stanno trascinando l'Italia giù con loro, parlando in Parlamento di cose completamente inutili, non parlando ad esempio della tassazione, perché noi abbiamo un'Italia che non ripartirà mai se non cambia la tassazione, abbiamo le nostre piccole aziende che fino ad agosto, in certe realtà addirittura fino a settembre in realtà come Bologna devono lavorare per pagare le tasse, per cui bisogna essere chiari, se si vuole domani mattina si fa una legge elettorale e si va al voto, se non si fa questo vuol dire che non si vuole andare a votare perché a qualcuno va bene avere una realtà del genere, va bene perché stanno facendo varie campagne elettorali come magari Parisi, va bene perché si vogliono tenere aperti alla sinistra, perché vogliono capire quale schieramento vincerà e da che parte mettersi non gli interessa, 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 posso? L'Italia, gli interessi sono ben altri.